Sabato 10 maggio alle ore 18, praticamente quello cittadino, mi sarà questa conferenza promossa dal Centro Studi di Salamandrei su Franco Antonicelli, Franco Antonicelli un denso tra letteratura e politica, interverrà il professore Angelo D'Orto, un messaggio di Torino, giornalista anche della stampa, ci è sembrata una conferenza, un incontro insieme di interessanti perché sono stati ritrovati degli scrittimenti di Franco Antonicelli ritrovati proprio dal Centro Studi di Salamandrei che adesso ne propone la pubblicazione e questa iniziativa è interessante, gli Antonicelli è un uomo politico, intellettuale, un letterato di grande modernità, a mio avviso un grande antifascista e vale la pena riscoprire questi personaggi.